Mentre tanti che qualcuno Cioè nel senso potete fare le rotazioni e non finisce mai Perché è bello usate Fate sto sub Ragazzi col sub Avete la possibilità di spammare Salvini La signora Anna Roberta Villa E tutti quelli che volete Comunque costa ancora la metà il sub ragazzi Ancora per 5 giorni Potete fare il sub a 2.50 Pronto? Sì? Eh buongiorno la signora Anna Eh signora Anna Old but gold Bella musa lì Comunque fab No certo puoi avere più account Puoi avere tutti gli account che vuoi in sto gioco Tanto non è che succede qualcosa Dopo esco anche adoniscio madonna de carry Con quali cattiveri Non mi ricordo più come si gioca sto centro Cento e tantissimi Cento mila no Cento un mila Dalla faccia dei gufi Ma qualcuno di quel tipo storto che ballava e rappava Madonna potrei mettercelo effettivamente No eh Ci va nessuno Salve Otusso anni è Bella mister Dani È porte de carry non porta Forse ho scritto male lì nel bot ma in realtà è porte 2 Eppure puntescanativo Roberta ragazzi So che è un casino però La lista comandi ce l'avete Grazie ragazzi siete uno spettacolo Ok vediamo un po' Non è lo scudino Gian Grazie Ecco qua Noi vogliamo mangiare i prodotti della nostra terra Esatto Pariamo 250 gratis Col twitch prime Ma ci sono 12 salvini In realtà sono 14 Però Gli altri due comandi di salvini sono Punto esclamativo grazie Punto esclamativo Grazie E Clandestini Quindi sarebbero 14 C'è però se di puntescanativo salvini va da 1 a 12 Clandestini Punto 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 Ormai ste partite ragazzi sono soltanto un comandi vocali di Salvini a spam Ciao Mi chiamo Roberta Villa Sono una giornalista Ma sono anche laureata in medicina Ottimo Clandestini sono E clandestini rimangono E in quanto tali vanno riaccompagnati a casa Non ce la farò mai in tempo Vì O forse sì Potete chiudere ste porte per favore Uno Olè Good job La torre no? Vabbè allora no Se non piace a te Non piace nemmeno a te Mica ragazzi Sono talmente tanti comandi vocali ormai che Chat mi scrivi Devo fare una cosa Io ho paura sinceramente Di quello che mi chiedi Non faccio cose al buio Non faccio cose al buio Mi dispiace Devi motivarmela questa cosa che devi fare Jellior 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 ragazzi Quando pinghi Che stai andando lì App di Twitch per telefono Non vedo nessuna Emote disponibile Grande Dani Sempre funzionale ovviamente L'app di Twitch Dal telefono Anzi no Voglio provare una cosa Vai alla vecchia di Hobo Alla vecchia proprio Vai così Una build Non fatela questa build Faccio niente questo mondo Di persone infami Come PewDiePie Che cazzo Mister Dani So che hai molti sub Molto potenti Da molta gente Però Salvini più ruspe È una combo imbattibile C'è poco da fare Salvini più ruspe Voglio provare la build Critico Oh Che cazzo Netto fatto Grandissimo Dani Facciamo di capire Siete tantissimi Centomila No Centonunmila Bella Ivan Alla faccia dei gufi Ivan Alla faccia dei gufi Mi ha salvato la vita Deve ringraziarmi dopo questa La torre Perché nessuno vuole le torri Siete turchi Spaccate le torri Cardesim Killerica E non Non so cosa abbia detto Ragazzi Bella Mad Mamma mia Sei mesi Good job Quando mi troverete qualcuno Che Ha delle motte più belle Di Salvini Come Motte da 25 Ma non credo che nessuno Abbia qualcosa di meglio Luxreport H.A.R.E.T Lugano anche a questo O se ne va back Mi sa che se ne va back Grazie dello spam ragazzi Bella Dark Eko Salumi abbondanti Dark Eko Come va Nella nostra Italia Non c'è spazio Per i campi Rom Mamma mia Regà I sub Costa la metà Ragazzi Mi raccomando Per le motte Per le motte Delle ruspe Queste altro Solo abbonanti Destini Punto Fanculo A chi Dade A chi Cose Se trovi male qua Torna a casa tua Il mondo è grande Non vuole la tua Ma non si capisce Che cazzo vuole questo Vado a fare il drink Oh no vado bata Falle clean Meglio From Lui E Domنا A chi Altra Di 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 Did Ha Sc U Mi Di 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 G andiamo qua torri black humor vediamo se Ezreal ce lo pulla un attimo 570 c'è kane in effetti ah ma non sono ancora dato back c'ho ancora sto item del cazzo qua vai raga adesso si spaccano i culi adesso che ho di nuovo gli item hai sentito che l'appo esplosa la cucina cosa? no non ho sentito bella defense non ho sentito che l'appo esplosa la cucina grazie il migliore grazie mille Dade noto unice in turco non ci sono almeno due torri giù non lo so perché io provavo a pullarle ma loro tipo andavano back mi pingavano di andare via cioè boh belli l'umidi oggetto in turco Ivan è tutto bello nel server turco il kebab soprattutto anche questo che si è incazzato o salve via no no ok perché sto fit si muove di continuo? e sto fermo ecco che idiota dio bono sto fit fit ragazzi ritardato però siamo nel server turco quindi è normale guzzè il fake e adesso push via via non lo so danni dopo glielo chiedo non sapevo nulla magari me l'ha scritto sul gruppo whatsapp e non ci ho fatto caso come allerti su il ballo del re per Bartolomeo si strong dico ma non sono stato molto a caso ultimamente buona grazie che ho messo 50 comandi salvine questo me lo faccio da solo sicuramente viene meglio vedete così si fa subito annaggia non con quel fit ritardato grande dade sentono cose di continuo in sottofondo sa che cazzo dico mi vado a spaccare di camille bravo martin sono troppo intelligente danni hai visto quanto son bravo aia clandestini punto clandestini destaniast è tipo legenda vc è legenda ah è vero c'ho questo vabbè oh attacca me lo stavo dimenticando tamam nameles tanto tamam anche per te vai sfonda tutto ale viene nessuno clandestini sono e clandestini rimangono e in quanto tali vanno riaccompagnati a casa madonna de dio ok prendo c'ho anche l'infinity buono cazzo se così satin al saluk smith a tutti kebab ah attenzione riven mamma mia il dog può accompagnare solo ecco a casa mi sono fieri di te ah sto giocando al lol tenero spatto come salvini sugli ipigrati potete chiudere ste porte per favore siete tantissimi centomila no centounmila alla faccia dei gufi alla faccia dei gufi ragazzi martin blaze secondo me non hai farmato no eh vabbè ma c'è un sacco di eh sì fai poi la master un'imitazione di clap che dico eh la risata di clap ma tipo gli parte la risata autistica oh ma cosa volete da me sì vabbè ammazza mia non lo so prendetelo ragazzi cazzo vabbè anche la mia risata non è tanto meglio Andrew grazie dell'icona del dog che bella ragazzi siamo a 206 sub 206 forza e coraggio continuate così ragazzi di più hazard babb la macro di dbd ragazzi ivan ci sei guarda la macro guardate qua la macro contro jax non posso fare molto da solo ma non sono da solo non avevo la ult non potevo fightarlo in quel momento oh è mio figli di puttane l'icona del dog ah l'icona del dog ragazzi che leggenda poi l'ho incontrato allo stand del mob al games week la madonna shaku turco esatto è lui scumbreg c'è scritto zaffer c'è scritto nel titolo solo chi nel server turco che babbar onoriamo fizz clandestini punto quello che dice quello che dice lui tamam tamam ragazzi che bello essere altin 3 adesso gioco un po' ezzel ezzel ezzel